Questa magnifica pianta si chiama Artemisia. Ha moltissime proprietà, è molto aromatica. Basta sfregare la foglia e annusarla e ha un aroma fortissimo. L'assenzio viene da questa stessa pianta, Artemisia absinthium. Una specie diversa da questa. Qua siamo in Val d'Aosta, siamo a 1600 metri sul livello del mare. Adesso amplio un po' lo sguardo per farvi vedere la situazione geografica. E quindi per tornare alla nostra pianta è un ottimo amarotonico. E anche un vermifugo, perché il nome ad esempio inglese della pianta è wormwood. Quindi pianta, diciamo, dei vermi. Perché comunque se uno aveva dei vermi intestinali o degli altri parassiti, questo è un ottimo vermifugo preso come tisana o anche come cordiale. E quindi, diciamo, un trattamento poi fatto con l'alcol, da cui poi è derivato anche l'assenzio. Ed è derivata anche un'altra bevanna.